Classe 1994, centrocampista centrale, cresce nel Copertino, viene visionato da Lecce dove disputa il campionato Perretti per poi tornare nuovamente nella città di Copertino. Ora in maglia Granata, Lorenzo Franco! Classe 1989, attaccante esterno dotato di ottima tecnica e velocità, si mette in luce proprio nel Nardò nella stagione 2010-2011, viene poi prelevato dal Copertino dove gioca per tre stagioni, fa divertire il pubblico, adesso torna in maglia Granata Alessio Pondisano! Bene, grazie alla linea dei centrocampisti salutandoli con un grande applauso e adesso ripresentiamo la linea offensiva del Nardò!